Ieri è stato assolto Filippo Penati, Filippo Penati è stato, magari adesso il nome dice anche poco, ma qualche anno fa era famoso, era il portavoce di Bersani, Bersani era il capo del PD allora, era un uomo molto importante nella politica italiana, era anche presidente della provincia di Milano, era stato presidente della regione, mi pare era stato sindaco di sesto, insomma un personaggio accusato di cose orrende, tangenti, imbrogli, messo soldi in tasca, sei anni, sei anni di processo, assolto in primo grado, assolto in appello, scusateci tanto, carriera politica finita, demolito moralmente, devo dire che ha rilasciato ieri un'intervista al nostro giornale, al dubbio, molto bella, mi diceva vabbè ma io non me la prendo con nessuno, i giudici, anzi è aumentata la mia fiducia della magistratura perché la magistratura ha dimostrato di essere in grado di accertare che non era vero niente e questo in parte è la verità, se la prende invece con la stampa, dice chi mi ha distrutto è la stampa e non gli si può dar torto francamente perché se guardate i giornali di allora, era l'apertura di tutti i giornali, non di alcuni giornali, tutti i giornali in quei giorni aprivano su Penati, pizzicato Penati colpevole, Penati fu considerato colpevole, fino a ieri Penati era un uomo corrotto, era uno degli esempi di come la politica è corrotta, invece non era vero, tutti i giornali aprirono, se date un'occhiata ai giornali di oggi in prima pagina ce l'ha il dubbio e poi gli altri giornali invece non ce l'hanno in prima pagina, alcuni non ce l'hanno, altri ce l'hanno piccolina, fra l'altro ieri sono stati prosciolti Alemanno e Marino, due sindaci di Roma, contemporaneamente è stato chiesto il rinvio al giudizio per il sindaco attuale Raggi, storia complicatissima, Marino fu anche lui accusato di cose minori francamente, però fu accusato di aver presi soldi, di aver fatto le cose irregolari e tanto fu accusato che fu cacciato da sindaco, Marino è stato cacciato da sindaco e sotto la pressione dei 5 Stelle, addirittura anche il suo partito lo abbandonò ed è diventato la sindaca Raggi al posto suo, cioè si è rovesciata la maggioranza con l'intervento della magistratura, sindaca Raggi che ora è sotto accusa anche lei e io spero non si dimetta, perché non è che si può continuare così, che c'è un PM appena vuole, piglia un sindaco, gli fa un abisso di garanzia, a casa si rivuta e si rovescia la maggioranza, perché sennò non c'è più tracce di democrazia, io spero che la Raggi, che è una pessima sindaca, però regga, regga, non c'è dalle pressioni della magistratura e anche un po' che i 5 Stelle magari capiscano che la politica non la possono fare i pubblici ministeri e nemmeno i giornali, ecco i giornali, sui giornali di oggi la notizia di Marino e di Alemanno Prosciolti non la trovate, in quasi nessun giornale c'è questa notizia, proprio non c'è, non è che in una pagina allontana, almeno se ho scartabellato i giornali non l'ho trovata, la questione che pone Penati è molto seria, la stampa sulle questioni del rapporto fra giustizia e politica, insomma l'ho detto varie volte, però dovrò continuare a dirlo, perché le notizie continuano a essere quelle, volete l'elenco dell'ultima settimana? Lo faccio a mente, chissà quanto ne scordo, Penati assolto, Marino prosciolto, Alemanno prosciolto, Del Turco assolto dalla accusa di essere il capo di un'organizzazione a delinquere, siamo a 4, nello stesso giorno di Del Turco non erano politici, ma erano grandi dirigenti di azienda, Scaglia, fondatore di Fastweb, Rossetti, grande dirigente di Fastweb, assolti, hanno fatto il carcere, siamo a 6, 7, ho perso il conto, qualche giorno prima Mastella, assolto, qualche giorno prima ancora Orsoni, stiamo parlando degli ultimi giorni, Orsoni ex sindaco di Venezia, fatto fuori, arrestato, buttato giù, cambio di maggioranza, assolto. Ci sono i termini di uno scandalo politico giudiziario, in nessun paese d'Occidente è così, e questo scandalo politico giudiziario che da una parte ha ragione Penati, ci dimostra che poi c'è un pezzo di magistratura che fa molto bene il suo lavoro e ripara i danni di un altro pezzo di magistratura, cioè dei IPM, però c'è la questione della stampa, la stampa sembra un protone di esecuzione, non un servizio di informazione.